L'arresto cardiaco non è un infarto, è un evento drammatico, improvviso, che di solito succede senza visaglie e può succedere a persone chiunque, anche persone sanissime. Ci sono solo pochi minuti, di solito cinque, per intervenire con un defibrillatore che è risolutivo ma che spesso può impiegare, diciamo, tempi brevi ma non brevissimi per arrivare. Nel frattempo è assolutamente necessario fare un corretto massaggio cardiaco, che non è un'operazione facile, richiede forza e velocità per esercitare la corretta pressione e frequenza. Infatti molte volte quando si legge sui giornali che qualcuno si salva da un arresto cardiaco è perché chi è intervenuto di solito è uno che fa un'attività sanitaria, una professione sanitaria. Quindi Beurer ha inventato un dispositivo che si chiama LifePad, che costa solo poche decine di euro, a differenza di un defibrillatore, e consente a una persona qualunque che non è stata formata di fare un corretto massaggio cardiaco. Beurer è presente a questo evento perché è convinta che questa tematica debba interessare i datori di lavoro, che devono sensibilizzare all'argomento e possono offrire un ausilio concreto alla salute dei lavoratori.